Musica Ieri 5 maggio è stata la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, dove la polizia postale e l'ONG Save the Children hanno unito le forze per dare un aiuto concreto, mettendo a disposizione un dossier con la raccolta di dati e informazioni inerenti all'adescamento online e una guida per i genitori dei ragazzi. A tal proposito, rispetto al 2020, nel 2021 i casi di pedopornografia sono aumentati del 47%, anno in cui ne sono stati registrati dalla polizia postale ben 5.316. In aumento anche il numero dei minori addescati su internet dai groomer, definizione di chi sfrutta la rete internet per addescare minori, ben 531 giovani tra i 10 e i 13 anni. Il target più a rischio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha reso note le stime riguardo gli effetti dati dall'aumento del prezzo del tabacco. I dati hanno dimostrato che il nostro paese si posiziona come uno degli stati europei con i più alti livelli di tassazione, che risulta al 78% al prezzo medio di vendita di un pacchetto di sigarette. Ogni anno nelle casse dello Stato finiscono ben 14 miliardi di euro di sole tasse, cifra la cui metà serve per curare gli effetti stessi del tabagismo come patologie e cancro. Secondo una recente fotografia dell'Istat, due anni di pandemia hanno avuto un impatto non indifferente sulla vita dei più giovani. Attraverso l'indagine sugli alunni nelle scuole secondarie, l'Istituto ha potuto analizzare i loro comportamenti dopo scuola. Ciò che è emerso dal report è una socialità trasformata, dove l'incontro reale tra amici è diventato un incontro virtuale, ricorrendo alla tecnologia come mezzo di comunicazione. Il 51% dei ragazzi inoltre ha sofferto per l'impossibilità di viaggiare, il 49% per la mancanza di libertà e il 48% per non aver potuto partecipare a feste, cene o aperitivi in compagnia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato i dati concreti sul numero di decessi dati dalla pandemia nel biennio 2020-2021. Secondo l'OMS, infatti, il Covid avrebbe ucciso tra i 13,3 e i 16,6 milioni di persone a livello globale, sottolineando che l'intero bilancio dei decessi da gennaio 2020 a dicembre 2021 è stato di 14,9 milioni di persone.